Noi parliamo del fenomeno delle estorsioni in Italia, c'è stato un aumento anche legato alla pandemia, quasi il 10% in più rispetto all'anno precedente, mentre l'usura è diminuita di oltre il 40%. Questo è stato detto, è stato spiegato dalla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese alla presentazione della relazione annuale su usura e racket, ribadendo peraltro l'esigenza di denunciare per far emergere questo fenomeno dalla sommerso, elargiti alle vittime 4,2 milioni di euro distribuiti soprattutto nelle regioni più colpite della Sud Italia. Ma sentiamola Ministra. Non dobbiamo dimenticare che ci sono un tipo di reato sommerso per cui ci sono poche denunce e questo lo evidenziamo. Quindi dobbiamo davvero lavorare perché ci sia un maggior coinvolgimento, perché soltanto laddove si comprende che si può entrare in un circuito di legalità accompagnati dallo Stato, soltanto bisognerebbe davvero che questo messaggio passasse in maniera martellante per far comprendere quello che è l'iter, la strada da seguire.